Pippi calzelunghe di Astrid Lindgren illustrato da Ingrid van Niemen Pippi va alla fiera guardate come sono eleganti quando si va alla fiera bisogna farsi belle come vera signore ed ecco cosa succede quando una vera signora va sulla giostra guarda una tigre povera piccola le tigre secondo me non devono stare in gabbia nonno oh nella teca ci sono due serpenti quel bo è enorme che coraggio chissà se anche quest'altro è un boa oh stroserà è sta povera nina no non ce la fa questi vecchi trucchetti non me li bevo ho visto serpenti più grossi credimi in Indocina da ora non hai paura dei serpenti? no dei serpenti così buoni non ho paura sogni d'oro piccolino guarda signor Nilsson forse la c'è il cuginetto di terzo grado della zia paterna della zia materna del cugino di tua nonna paterna la figlia è scappata la figlia è scappata mangerà la bambina oh cosa dobbiamo fare? chiamate i pompieri no no chiamate i piedi cappellughe ehi se tu mordi me io mordo te prendine nota adesso ti da una calmata oh ti ho rovinato il vestito si ma aspetta che me lo tagli e vedrai che torno elegantissima ma è normale che una signora elegante abbia la pancia che brontola ciao